Sper per i assunzioni senza concorso, regalie, tagli che andranno a penalizzare soprattutto le zone montane già disagiate. I sindacati all'attacco della gestione ritenuta deleteria del trasporto pubblico in Abruzzo. Indice contro la mala amministrazione di ARPA GTM Sangritana, confluite di recente nell'azienda unica regionale TUA, che è versa adesso però in una situazione di stallo. Una regione nel caos insomma e da qui lo sciopero di 24 ore del prossimo 7 agosto. Attacco diretto poi di CGL e UGL a Sangritana. Maurizio Di Martino, segretario provinciale Filti CGL Chieti. Sciopero del 7 agosto è uno sciopero politico. La Filti CGL ha fortemente voluto negli anni che si facesse un'azienda unica di trasporto di carattere regionale. Abbiamo ricevuto in campagna elettorale da parte del governatore D'Alfonso ampie rassicurazioni e promesse a che questo processo si facesse in una maniera corretta. Ma queste promesse oggi non sono state mantenute perché per esempio noi contestiamo fondamentalmente il piano industriale che non rispecchia in maniera veritiera quello che è lo Stato e le condizioni delle nostre aziende e che dopo vi spiegherò in maniera più dettagliata. Contestiamo l'ulteriore affidamento di chilometri a vettori privati e contestiamo il taglio di chilometri nelle aree interne della nostra regione che già sono di per sé penalizzate. Quindi figuriamoci tagliandogli ulteriormente servizi. Ma per quanto riguarda per esempio il discorso ferroviario noi contestiamo il fatto che sul piano industriale sono stati dichiarati come mezzi utili per fare trasporto ferroviario circa 40 mezzi. In effetti oggi per il TPL vengono utilizzati esclusivamente 5 elettrotreni denominati Lupetto più un ALN776 denominato Aquilotto e stiamo lavorando già al limite massimo di utilizzo di queste macchine. Tanto è vero che quando una macchina ha un problema che non può essere riparato nell'immediato si ha la soppressione dei treni perché non abbiamo le macchine giuste per poter effettuare completamente il servizio. Quindi le accuse che vengono lanciate al personale viaggiante che è un personale assenteista, un personale che usufruisce di malattie, infortuni, legge 104, permessi sindacali è assolutamente falsa e noi respingiamo e rimandiamo indietro al mittente. I treni sono soppressi perché non abbiamo il materiale a sufficienza. Il personale lavora al limite massimo delle proprie possibilità con una produttività notevole e con l'impossibilità addirittura di poter usufruire di riposi e ferie programmate. Noi stiamo lavorando quest'estate senza poter fare le ferie. Questo è chiaro, deve essere un messaggio che deve essere recepito da chi invece accusa questa categoria di essere una categoria di fannulloni. Quindi dicevo cinque convogli utilizzabili. Noi abbiamo speso in San Gritana milioni e milioni di euro per revampizzare, per restaurare, ristilizzare del materiale acquistato in Belgio denominato orsetto. Sono treni, elettrotreni che sono stati inaugurati più di dieci anni fa, dal ministro all'ora dal ministro Fini e che a tutt'oggi nonostante tutte le spese sostenute non ancora riescono a percorrere un chilometro in servizio sulle linee ferroviarie. Insieme a questo abbiamo tre locomotori nuovi per il servizio merci, l'ultimo inaugurato un mese fa con il sottosegretario D'Alessandro, con il fischietto. Bene, questo locomotore nuovo è stato già dato in affitto ad un'altra azienda, quindi non ce l'abbiamo più neanche. Allora la domanda che noi ci facciamo è perché sono stati spesi questi soldi per acquistare un locomotore merci quando la situazione del parco rotabile da utilizzare per il TPL è nota e stranota a tutti, soprattutto ai dirigenti di ferrovia San Gritana. I nostri treni viaggiano ormai al limite anche dei vincoli che ci vengono imposti dalla circolazione ferroviaria. Stiamo registrando negli ultimi tempi dei ritardi che sono insostenibili e che non possono essere assolutamente addossati né al personale né alle macchine perché purtroppo nella circolazione ferroviaria i nostri treni sono nella gerarchia delle precedenze posti all'ultimo posto, quindi vuol dire che se c'è un frecciabianco in ritardo o un intercity in ritardo i nostri treni vengono accantonati e quindi accumulano ritardo che dopo inevitabilmente si ripercuote per tutta la percorrenza del treno arrivando spesso a San Vito o a Lanciano con ritardi superiori ai 20 minuti. Ci sono state delle assunzioni negli ultimi giorni in San Gritana, assunzioni di una dozzina abbondante di operai, assunzioni fatte a tempo determinato e senza nessun concorso pubblico. Noi queste assunzioni le contestiamo perché contestualmente a queste operazioni abbiamo sostenuto nei confronti dell'azienda unica una battaglia per il concorso pubblico per quanto riguarda gli autisti. Allora noi sosteniamo che anche per quanto riguarda queste assunzioni una volta finiti i quattro mesi del mandato se ci sono delle necessità di assumere operai che si venga fatto un concorso pubblico così tutti i giovani abruzzesi non solo di Lanciano del circondario possono avere l'ambizione di poter venire a lavorare nelle officine della Ferrovia San Gritana. Il cattivo costume che si è perpetuato negli anni e che noi avremmo voluto che fosse posto a termine, cioè quello di elargire promozioni, elargire indennità particolari e personali ai lavoratori, noi avremmo voluto che questo fosse portato a termine. Vi ricordo che noi abbiamo sostenuto una dura battaglia da soli contro una delle più pessime abitudini che ci possa essere all'interno di un'azienda, cioè quello di concedere a una parte di lavoratori l'opportunità di poter utilizzare degli straordinari forfettizzati. C'è gente che ha avuto straordinari da 10 a 25 ore forfettizzate, questo significa che lo fai o non lo fai straordinario, comunque lo percepisci imbensilmente in busta paga. E' una cosa che veramente non abbiamo più trovato i termini per poter denunciare questo, abbiamo sempre fatto la nostra parte, ci siamo riusciti alla fine quasi del mandato di questa amministrazione a porre fine a questa sorta di favoritismo, a questo punto noi pretendiamo che queste cattive abitudini vengano definitivamente accessare.